ciao ragazzi e ho provato per voi in questo periodo la paletta di ombretti golden roses di mesauda milano un piccolo scrigno che contiene al suo interno ben 12 ombretti dai finish diversi per sapere se mi è piaciuta dovete solo continuare a leggere che sia estate o inverno per avere un look sempre perfetto e valorizzare lo sguardo nel miglior modo possibile sono sempre alla ricerca di palette di ombretti dalle alte performance e che soprattutto abbiano quei colori perfetti da utilizzare sia per un look giorno che per un look da sera in quest'ultimo periodo dove la mascherina regna sovrana ho avuto necessità di valorizzare sempre più e nei modi più disparati gli occhi ho avuto il desiderio ardente di sostituire magari il mio rossetto fuchsia preferito con qualcosa di vivace che valorizzasse lo sguardo ad esempio e che soprattutto in vacanza non mi facesse sentire anonima passeggio di pomeriggio o di sera ecco perché mi sanno portata in borsa 24 ore su 24 ovunque andassi la palette golden roses di mesauda 32,00 euro euro 21,20 disponibile 7 new from 21 euro e 20 centesimi spedizione gratuita vedi dettagli amazon it is of meg 5 2023 19 e 5 descrizione prodotto di qualità contiene 12 per 1,2 grammi net w t 0,04 oz prodotto per la cura della persona ma vediamola nel dettaglio descrizione dell'azienda golden roses è la palette di ombretti dalla texture cremosa e sottile in 12 colori le diverse tonalità mete e perlate consentono infinite combinazioni per un look che si adatta perfettamente al giorno e alla sera estremamente facili da applicare garantiscono un rilascio colore immediato e una stesura modulabile i colori lancelot è un marrone scuro freddo matte perfetto per intensificare ai look da giorno da utilizzare nella piega dell'occhio o anche da solo su tutta la palpebra con un velo di mascara ha un rilascio colore immediato è modulabile e si sfuma senza lasciare macchie amber queen colore arancio perlato super vitaminico ed estivo facile da applicare sia con le dita che con un pennello asciutto per un risultato power consiglio la stesura con un pennello a setole piatte bagnato magari con il famoso e portentoso mist and glow di mesauda di cui vi scrissi una recensione qualche mese fa modulabile ed anch'esso si sfuma facilmente senza lasciare macchia fa un po di fallout felicia personalmente lo definirei un color fragola spento matte mi rendo conto che detta in questi termini possa non attrarre molto eppure trovo sia un colore super versatile elegante e facile da portare soprattutto per chi ha una pelle chiara accompagnato da una riga di eyeliner o semplicemente con un bel po di mascara nero crea un look tutt'altro che anonimo come i precedenti per forma in modo eccellente victoria un viola matte con una punta di fucsia al suo interno colore pop super affascinante può donare a qualsiasi look quella carica in più credo sia uno dei viola meglio formulati che abbia mai provato in vita mia non crea macchie non macchia la palpebra si sfuma che è una meraviglia ed è possibile intensificarlo piano piano in base alla saturazione che si preferisce lo adoro mamma mia il mio secondo preferito di questa palette si tratta di un color champagne perlato super elegante super cremoso davvero la mia espressione la prima volta che l'ho provato è stata mamma mia e non si può dire altro ogni volta che lo si applica unico problemino che direi assolutamente passabile è che è il colore della palette che fa più fallout peace è lui il mio numero uno un oro perlato super riflettente leggermente granuloso al tatto ma non crea fallout ed una volta applicato è come indossare oro colato sulle palpebre per me la perfezione oh wow un duochrome davvero particolare ma al contempo super portabile sia di giorno che di sera va dal marrone al verde scuro molto morbido al tatto consiglio l'applicazione per un risultato perfetto con le dita si sfuma in maniera eccellente non perde di intensità durante la giornata ballerina un viola perlato ultra pigmentato davvero un bel colore perfetto per degli smoky eyes d'effetto e diversi dal solito my girl color burro matte il colore ideale per ogni look io l'ho utilizzato per settare tutta la palpebra ogni volta prima di qualsiasi make up al di sopra del primer elimina le discromie ed è ottimo sotto l'arcata sopraccigliare saga un terra di siena matte insieme a my girl credo sia un colore super versatile che si può utilizzare per ogni look dalla piega dell'occhio all'intera palpebra per creare sfumature più calde su look freddi e così via adoro la facilità con la quale si sfuma e la sua cremosità al tatto superstar un rosa perlato con una punta pescata al suo interno molto molto bello davvero l'ho utilizzato da solo su tutta la palpebra molte volte quando non avevo tanta voglia o tempo di truccarmi e ha sempre riscosso successo tra le mie amiche credo che uno degli abbinamenti più d'effetto per la sera sia con perception in un halo high make up perception nero matte il colore più scuro della palette dalla sua che non crea quasi fallout anche se è sempre meglio fare la base dopo quando si ha voglia di utilizzare questo colore purtroppo però non ha conquistato il mio cuore perché non è particolarmente omogeneo e di conseguenza va lavorato abbastanza per raggiungere il risultato desiderato questa palette ha soddisfatto le mie aspettative assolutamente sì per circa due mesi l'ho utilizzata ininterrottamente giorno dopo giorno con o senza primer e la resa è sempre stata eccellente ecco cosa mi è piaciuto la pigmentazione degli ombretti è immediata nonostante sono stratificabili e non creano macchia ad eccezione di perception si sfumano facilmente e offrono delle ottime performance sia con pennelli asciutti che bagnati che con le dita le diverse textures permettono di giocare creare look sempre diversi e particolari adatti sia per il giorno che per la sera ecco cosa non mi è piaciuto perception purtroppo è stato l'unico ombretto che non mi è conquistata mi rendo conto che creare un nero perfetto è quasi impossibile e questo infatti ha delle pecche sebbene stratificandolo diventi molto intenso va lavorato davvero bene per evitare che crei macchie e in determinate circostanze va lavorato con pennelli da precisione non va sfumato eccessivamente altrimenti tenderà più verso il grigio scuro che verso il nero a chi consiglio questa palette la consiglio a chi ha una certa dimestichezza colme il capo se si è alle prime armi a chi vuole avere un'unica palette da portare con se ovunque e da poter utilizzare in qualsiasi occasione ed in qualsiasi momento della giornata il packaging è meraviglioso preciso che il pack primario e secondario sono identici come dice il nome si gioca tutto sull'oro rosa specchiato elegante magnetico nella parte anteriore si ha una base nera sulla quale spiccano appunto in rose gold il nome della palette e del brand semplice ma meraviglioso allo stesso tempo le dimensioni ridotte della palette permettono di trasportarla ovunque in borsetta in valigia può essere sempre reutilizzata durante il giorno anche grazie al mega specchio interno che permette di ritoccarsi il makeup o semplicemente controllarselo nell'arco dell'intera giornata quanto costa e dove si trova il prezzo è di 32 euro e 50 centesimi sul sito ufficiale mesauda cosmetics i tuttavia è facilmente acquistabile anche da amazon dove si trova attualmente in offerta 25 euro e 60 centesimi in c'è bene ragazze i per me questa palette è promossa a pieni voti e se non avete ancora avuto modo di provarla ve la straconsiglio perché è un vero e proprio gioiello credo di poter affermare senza dubbio alcuno che è diventata il mio mai più senza spero che questa recensione vi sia stata utile e punto 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 alla prossima un abbraccio 32,00 euro euro 21,20 disponibile 7 new from 21 euro e 20 centesimi spedizione gratuita vedi dettagli amazon it is of meg 5 2023 19 e 5 descrizione prodotto di qualità contiene 12 per 1,2 grammi net w t 0,04 oz prodotto per la cura della persona potrebbe interessarti anche recensione spray extra fina rivitalizzante trucco mist glow mesauda milano review smalto shine wear mesauda un bellissimo rosso fama recensione palette ombretti zoeva caramel melange mesauda milano palette 12 ombretti compatti golden rossis 21 euro e 20 centesimi 32 euro disponibile 7 new from euro 21,20 as of meg 5 2023 19 e 5 vedi dettagli amazon it prezzi aggiornati al meg 5 2023 19 e 5 25 euro e 60 centesimi 9 molto buono 9,0 10 acquista